Scheda che regola il funzionamento delle ventole, alimenta le ventole e poi in base alla temperatura se c'è un problema nella macchina di qualsiasi tipo che fa alzare la temperatura dei MOSFET, questa scheda capisce che deve alzare la regolazione delle ventole e le fa andare più forte per sopperire al fatto che la temperatura si sta alzando, quindi questa scheda serve per alimentare le ventole, controllarle, quindi alzare la tensione in caso di surriscaldamento e poi nei 2000 W alimenta il driver con 18V, questa è la funzione di queste schede, queste schede sono in una posizione dove l'aria corrode facilmente le piste, la salsedine o l'aria sporca, allora noi gli mettiamo questa protezione per evitare che le piste si corrodano, però come in questo caso, si è rotto, ha seduto uno dei 24V della ventola, 18V, allora per sostituire questa scheda si tirano via le due viti qua, si fa un post lever, si mette questo così, stando attento al verso, si inserisce la scheda qui si inserisce la scheda qui